e bentornati in questo nuovissimo episodio di Keeping Up with Iaia Rondi io sono la vostra host Ilaria Rondinelli e bentornati lo so avete ragione ci ho messo tanto però purtroppo ragazzi ho avuto un po' di problemi a livello familiare un po' di progetti a cui stavo lavorando e mi dovevo focalizzare soprattutto su quelli quindi insomma un po' di problematiche però sono finalmente tornata tantissimi di voi mi hanno scritto veramente grazie perché è veramente bello quando leggi quelle cose perché ti rendi conto che qualcosa di bello interessante lo fai in questa vita tantissime persone mi hanno scritto Ila ma quando torna il tuo podcast ci manchi e quindi sono tornata, sono tornata finalmente ce l'abbiamo fatta e come state? Come state? Spero tutto bene qui non fa altro che piovere da praticamente cinque giorni e si spera in una primavera ho fatto anche la rima, il prima possibile ma, ma non ci mettiamo sempre a parlare se no io comincio a parlare e non la smetto più cosa sarà questo nuovo episodio del podcast? come vi avevo detto se mi seguite sui social e soprattutto appunto su Instagram vi avevo chiesto di mandarmi degli audio voi appunto stessi facendomi delle domande potevano essere qualsiasi tipo di argomento da l'amore agli Stati Uniti perché lo sapete c'è questo podcast non è solo Stati Uniti quindi voi potete chiedermi qualsiasi cosa anzi, siccome vorrò fare un bel po' di episodi proprio con le vostre domande dirette quindi potrò far ascoltare il vostro audio in diretta durante l'episodio e vi risponderò dirò anche il vostro nome se ovviamente siete d'accordo e ne parleremo insieme quindi qualsiasi tipo di domanda voi abbiate potete scrivermi su Instagram mi chiamo sempre Iaia Rondi I-A-I-A Rondi tutto attaccato e niente, ne parleremo insieme vi risponderò e vediamo un pochino le domande che mi fate allora tantissime persone mi hanno mandato degli audio vi dico la verità siete state in tanti alcuni erano un po' domande abbastanza simili ho preso mi sembra che sono quattro quattro domande che mi hanno incuriosita mi sono piaciute come domande perché sono delle domande che non fanno tutti e allo stesso tempo mi sembravano molto interessanti quindi siamo brandi partiamo partiamo con Martina Martina oh scusatemi aspettate prendiamo Martina adesso ve la trovo subito che l'ho persa in un momento scusatemi e ho sbagliato Martina ah no sei tu sei tu sei tu è lei è lei scusatemi purtroppo il mio telefono oggi non non vuole partecipare un po' vecchiotto su telefono vabbà perfetto ci siamo facciamo sentire l'audio di Martina piacere di conoscerti senti io ho visto la tua storia e so che stai con Dylan ed è una vergine volevo chiederti una roba che mi è passata per la testa ma anche lui è poco affettoso cioè devi hai avuto tanta pazienza per farlo aprire o comunque per ricevere delle attenzioni un po' più diciamo non plateali però io know what I mean cioè nel senso le cose anche più stupidine non lo so volevo il tuo parere non lo so volevo sapere sentire la tua ciao perfetto questa è Martina ciao Martina grazie per aver mandato il tuo audio e ne parliamo subito ne parliamo subito perché l'ho trovata una domanda molto interessante perché io ho a che fare con un vergine tutti i giorni e tantissime persone diranno Ila io non ci credo non credo ai segni giudiacali ragazzi io ci credo perché io sono un gemelli e ho veramente tutte le qualità di un gemelli io mi sento proprio gemelli al 100% e quindi io ci credo ci credo e tantissime persone ovviamente ci credono e vi dico un'altra cosa partiamo prima di tutto da questa cosa io sono un gemelli Dylan è un vergine voi non so se lo sapete ma vergine e gemelli non vanno molto d'accordo perché sono due segni completamente diversi ed è vero ed è vero nel senso che io non è che io e Dylan non andiamo d'accordo ma veramente siamo il sole e la luna proprio due poli opposti mio marito è è nato ad agosto quindi è un vergine il 24 agosto praticamente è uguale a mio padre mio padre è un vergine perché mio padre è nato il 2 settembre e dicono che giretti di gira finisci sempre per sposare qualcuno che assomiglia al tuo papà effettivamente è vero perché Dylan mi ricorda tantissimo mio padre allora Dylan è il tipico vergine molto chiuso molto riservato molto timido non esprime i suoi sentimenti non fa sorprese cioè le fa ma le fa diciamo quando te lo aspetti nel senso che ne so San Valentino compleanno cioè non è una persona Ila dai vediamoci allora stasera andiamo a cena in quel ristorante sai volevo andare da tanto tempo in quel ristorante non è così non è un poi metteteci anche comunque mio marito è un militare ed è quello che ho visto Martina penso che anche tu sia sposata con un ragazzo militare se non erro dimmi se sbaglio quindi mio marito è abbastanza freddo nel senso che può essere la persona più dolce del mondo quando vuole ma ha i suoi limiti e da vergine lo rivedo tantissimo il mio padre perché pure mio padre prego e sorprese non era molto cioè non è molto bravo con mamma dico era perché comunque adesso sono un pochino più cresciutelli però mi ricordo che quando ero più piccolina mia madre si lamentava e tu padre manca un paio di fiori mi regala una volta ogni morta di papa diciamo che non fa parte della categoria dell'uomo per esempio una cosa molto stupida io ero fidanzata con un ragazzo l'ultimo ragazzo prima di Dylan un ragazzo di Roma e lui era proprio il tipico ragazzo che ogni volta che vi veniva a prendere ti faceva trovare i fiori sul sedile il regalino la cena fuori stasera preparati che ti porto lì che ti porto qua partiamo un weekend alla spa trovavo le rose davanti il pianerottolo di casa cioè cose che comunque fanno piacere a qualsiasi donna però questo ovviamente bisogna dire che tutte le persone cioè le persone non sono tutte uguali ognuno ha la propria personalità diciamo che Dylan pecca un pochino in questo nel senso che non è non è sto grande romantico non non è una cosa a cui è molto interessato cioè ripeto che ne so vedevi fare un regalo nonostante siamo sposati quindi a un certo punto tu dovrai sapere che mi piace o che non mi piace cioè insomma parlamoci chiaro lui sempre ma che ti devo regalare io non so mamma mia Dylan so qua quattro anni tre anni che siamo sposati e dai quindi ci sta nel senso ci sono persone diverse le persone sono diverse noi non siamo tutti uguali alcune volte io glielo dico ovviamente con molta tranquillità con molta calma vorrei che tu fossi un pochino più romantico un pochino più diciamo che mi facessi un pochino più di sorprese ecco magari che ne so la sera andiamo a cena allora dove andiamo stasera cioè non è mai lui che mi dice ho prenotato alle otto in questo ristorante non ti dico dov'è preparati andiamo è più una cosa da adulti insomma da però cioè che per carità ci sta perché comunque siamo sposati siamo adulti però quel romanticismo quelle cose della sorpresa secondo me non deve mai mancare in una relazione perché sennò poi la relazione comincia un po' a essere troppo ovviamente ripeto io vi sto dicendo come è fatto Dylan questo non vuol dire che io non lo ami che non lo cioè è perché vi sto spiegando un pochino come è Dylan e secondo me incite moltissimo anche il fatto che lui sia vergine adesso poi magari ci sono vergine diversi e poi soprattutto è un vergine che pensa molto pensa troppo lui sa sempre invece di farla una cosa come sono io io mi butto proprio io sono una proprio io vivo di carpe diem cioè io devo fare quella cosa se non la faccio io ho sempre stato il mio motto se non la faccio adesso quando la faccio che poi effettivamente ci sta perché la vita lo sappiamo non sappiamo mai quello che succede e quindi sono sempre stata così sono sempre stata un carpe diem invece mio marito è una persona che pensa ci ripensa ci ripensa ci ripensa sta tutto il giorno a pensare Dylan basta lo vedi proprio c'è c'è proprio quel mood che non parla sta nelle sue tu dici Dylan che c'è che cosa non va e quindi ovviamente quello fa parte del suo carattere però ripeto non è soprattutto non è una persona che si apre molto nel senso non è una persona io per esempio che ne so c'è qualcosa che mi dà fastidio c'è qualcosa che a cui sto pensando ripensando io mi metto seduta e parlo con mio marito e dico allora questa cosa mi sta dando fastidio oppure c'è questo comportamento che hai fatto lui invece si chiude si chiude molto ripeto sia a livello di sfogo e sia a livello di emozioni lo esprime in maniera un pochino diversa dalla mia io invece sono una un pochino più teatrale mi piacciono le sorprese mi piace sorprendere qualcuno mi piacciono queste cose sono sempre stata così quindi diciamo ci compensiamo però dall'altra parte mi piacerebbe se Dylan fosse un pochino più come me però purtroppo non siamo tutti uguali ognuno ha il proprio carattere è molto migliorato da quando stiamo insieme mi regala i fiori un pochino più spesso però certo quei gesti ripeto vengono sempre apprezzati e sarebbe bello se mio marito li facesse un pochino più spesso però ripeto ci sono cose più importanti nella vita l'importante è che mio marito mi ami mi rispetti c'è amore amore reciproco ci rispettiamo eccetera eccetera quindi insomma capisco il punto di vista di Martina e alcune volte può essere difficile perché dici porca miseria magari vedi soprattutto sui social e vedi ste ragazze che hanno sti ragazzi super premurosi sorpresa di là sorpresa di qua e poi io guardo Dina e dico Dina non è proprio così però ripeto lo fa lo fa non gli piace sentirselo dire quindi all'inizio io glielo facevo notare poi invece ho capito che a lui dà fastidio se gli dici ah ma la sorpresa ma il regalo quello non è non che io ovviamente pretendo il regalo lo sottolineo questa cosa però appunto non vuole sentirselo dire non gli piace essere giudicato eccetera eccetera quindi vergini soprattutto uomini potete fare meglio potete fare meglio un pochino più di sforzo ce la potete fa ce la potete fa ma passiamo ti rispero Martina di aver risposto alla tua domanda e capisco che alcune volte può essere difficile ma dobbiamo accettare i nostri mariti per quello che sono cercare un pochino di migliorarli è un processo è un processo piano piano ce la faremo va bene poi seconda persona abbiamo Lorena Lorena adesso ti trovo Lorena scusatemi che qui io ho gli audio su su Instagram e avevo fatto una cartella ma la cartella si è cancellata e quindi vabbè devo type i vostri nomi comunque passiamo al secondo audio ciao Ilaria volevo complimentarmi con te innanzitutto perché sei una ragazza spontanea forte determinata e con una grande capacità di esprimere le emozioni una spontaneità che non ti fa temere il giudizio che immagino ci sia anche nei riguardi di chi tu in qualche maniera critichi no ma in maniera sempre molto rispettosa volevo chiederti qualcosa che riguarda l'alimentazione avete la possibilità di trovare cibo biologico oppure da coltivazioni orti eccetera grazie un abbraccio perfetto ciao Lorena questo è il tuo audio allora a livello di prodotti biologici frutta verdura perché questo è un è un argomento molto gettonato negli Stati Uniti perché purtroppo lo sappiamo la qualità del cibo negli Stati Uniti non è proprio dei migliori purtroppo per me che questa cosa la soffro molto mi manca veramente tanto il cibo italiano la qualità che abbiamo fatto sta che faccio apro una parentesi e la chiudo subito se no poi mi allungo troppo ve ne avevo già parlato sui social io ormai che è qualche mese fa ho preso la decisione di diventare vegetariana per il semplice fatto che io ho sempre amato carne e pesce ma la qualità della carne e del pesce negli Stati Uniti è veramente veramente pessima ancora in Italia su qualcosina ci possiamo salvare perché comunque siamo più piccoli lo sappiamo che ci sono molte più regole a livello di alimentazione a livello di prodotti ingredienti ci sono regolarizzati dalla legge qui purtroppo a nessuno frega niente qui non viene bannato nulla ci sono ingredienti bannati nel resto del mondo che purtroppo negli Stati Uniti sono ancora utilizzati e non parliamo purtroppo della situazione carne e pesce perché è sempre questo il discorso gli Stati Uniti sono grandissimi vi faccio sempre il paragone che in Italia mi sembra che siamo 90 milioni negli Stati Uniti sono 350 milioni quindi purtroppo c'è tantissima gente da sfamare e la richiesta di carne e pesce è altissima e quindi vi lascio immaginare questo me l'avevo già parlato se vi capita guardate i due documentari su Netflix che si chiamano Sea Spiracy non lo so se in italiano è diverso però la cospirazione sul pesce la cospirazione si chiama Meat Spiracy una cosa del genere che parla sia del pesce che della carne io già ci pensavo da tanto tempo da quando purtroppo ho preso la decisione di vivere negli Stati Uniti mannaggia a me sto scherzando e io già ci pensavo a questa cosa anche mettiamoci anche il mio amore incondizionato se voi mi seguite lo sapete per gli animali io ho un amore incondizionato verso gli animali e ci pensavo da tanto finché ho preso questa decisione quei documentari sono stati proprio la gocciolina che hanno fatto traboccare il vaso e ho deciso di diventare vegetariana quindi io non faccio più né di carne né di pesce sto benissimo faccio una dieta vegetariana molti legumi molti fagioli legumi legumi misti tanta verdura tanta frutta insomma io sto benissimo anzi mi sento molto meglio e non che prima mangiassi così tanto la carne però veramente c'è troppa troppa schifezza dentro carne e pesce qui negli Stati Uniti ormoni cioè veramente guardatevi i documentari e ve ne rendete conto salmone quando vi dicono che ci stanno gli allevamenti di salmone tutte cavolate tutte cavolate sono allevamenti intensivi ho visto delle immagini che mi hanno veramente traumatizzata e ripeto quello è stato proprio il colpo finale ho detto basta voglio diventare vegetariana e questo però io non voglio essere una persona come si dice non voglio farvi la dirvi no perché sono vegetariana la carne il pesce non si mangia prima di tutto ognuno fa quello che vuole ovviamente si cerca di sensibilizzare però purtroppo questo è il problema principale del mangiare pesce e carne le persone sono nate che mangiavano pesce e carne è una questione di cultura cioè e al romano gli elevi la carbonara la matriciana go a pancetta eh raga cioè quella è nella cultura romana ma come in tutto il resto del mondo purtroppo non è solo l'Italia ma nel resto del mondo cioè l'America campa di hamburger capite cioè questo è un problema culturale e di per sé la carne e il pesce non fanno male perché non fanno male il problema è come sono adesso gli allevamenti quello che fanno gli animali e poi anche purtroppo l'idea del mattatore non lo so ho preso questa decisione però ripeto questo non significa che se io torno in Italia la carbonara che io adoro a parte che a parte che dicono che ormai hanno fatto di tutto creano anche carne vegetariana vegana che sa di carne quindi è come se vi stesse mangiando la carne ma non lo è io per esempio compro degli hamburger che sono appunto plant based che sono tutti insomma piante basati come si dice basati sulle piante sono fatti di piante cioè di verdura e sono buonissimi cioè io Dylan li mangiamo Dylan ancora è molto attaccato alle chicken wings all'hamburger quindi lui continua a mangiarli ogni tanto però quando compro questi hamburger questi anche questi nuggets che sono appunto plant based sono veramente buoni cioè non lo sentite nemmeno la differenza e quindi io sto contenta così va bene così ma chiudiamo la parentesi e sarebbe difficile magari qualcuno ti è perso e ero diventata vegetariana oppure se chiedeva perché perché è diventata vegetariana e allora parliamo quindi di frutta e verdura appunto lei aveva chiesto se riusciamo a trovare frutta e verdura sai biologica eccetera eccetera allora guarda noi abbiamo proprio qui che mi sembra che sia 10 minuti un mercato che si chiama adesso te lo dico mi sembra tipo farm market aspetta momento di ricerca farm market mi sembra che sia farm market qualcosa di genere sì farmers market fresh market eccetera eccetera che purtroppo lo fanno soltanto l'estate perché l'avevamo visto l'avevamo visto subito con Dylan che era vicino casa nostra e avevamo visto che vendono frutta e verdura biologica che viene proprio dai campi dalle coltivazioni di persone appunto individuali però purtroppo lo fanno soltanto l'estate quindi assolutamente sì si può trovare verdura e frutta biologica dai campi per esempio se ci pensate il periodo delle zucche il periodo delle pumpkin patches cioè sarebbe il periodo di Halloween no? che qui è tipico andare nelle pumpkin patch e scegliere la propria zucca che è molto carina come esperienza se vivete negli Stati Uniti o siete mai stati negli Stati Uniti o se non ci siete mai stati vi consiglio il periodo di ottobre perché è un periodo meraviglioso perché poi è autunno e qui c'è Halloween qui si sente molto Halloween e c'è questa cosa che puoi scegliere la tua zucchetta ed è veramente bello e quelle sono appunto coltivazioni stessa identica cosa il periodo delle fragole ci sono proprio i campi le strawberry patches cos'altro ci sono ci sono ci sono tanti eventi anche per esempio se andate nelle fattorie nelle fattorie ci sono appunto le fattorie adibite a bambini soprattutto che mai rientrate di toccare gli animali potete mungere le mucche e darli da mangiare e poi ci sono gli stand in cui vendono la frutta o la verdura fresca per esempio la marmellata fatta da loro il formaggio quindi ci sono ci sono poi dipende ovviamente da dove vivete cioè per esempio noi comunque viviamo negli Stati Uniti viviamo appunto cioè mia madre mi chiama mamma non adesso viviamo appunto in Virginia e qui ci sono tantissimi spazi c'è tanta natura ci sono tanti campi quindi non è una cosa appunto rara quindi assolutamente si può trovare la qualità certo la qualità bisogna sempre vedere che tipo di qualità hai rispetto alla qualità italiana ovviamente però su questo purtroppo ragazzi ci dobbiamo adattare perché altro non si può fare e questo questo porta come dice come si diceva a Roma come diciamo in italiano questo porta al convento allora scrivo a mia madre scusatemi perfetto passiamo all'altro audio lei è Andrea Andrea con due A finali cioè quindi Andrea ok perfetto ciao Ila buongiorno volevo chiederti ma tu e Dylan avete mai pensato o comunque pensate in futuro di prendere animali cane gatto insomma qualsiasi tipo di animale e soprattutto come vengono vissuti lì in America perché noi in Italia abbiamo molto l'abitudine di umanizzarli li trattiamo proprio come figli in America c'è questa ottica oppure no ok ciao Andrea grazie per il tuo audio e ti rispondo subito allora primissima domanda che mi fate molto molto spesso se io e Dylan abbiamo mai pensato di prendere un animale un gatto un cane assolutamente sì tantissime volte andiamo da PetSmart che è appunto il negozio per gli animali andiamo a vedere loro hanno il reparto per adottare i gattini e ci sono sempre i gattini nelle 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 come si dice cage nelle aspettate che è un momento di non mi ricordo come si dice ah gabbie gabbie scusate quindi tante parole in italiano e sempre andiamo Dylan è un grandissimo amante degli animali ma soprattutto lo vorrebbe un gatto io sono gatto cane però mi piacciono di più i cani però anche il gatto è molto molto bello e ci abbiamo pensato tante volte l'unica cosa l'unico motivo per cui non l'abbiamo ancora fatto è per il semplice fatto che il fratello comunque nei militari molto spesso va in missione dovremmo lasciarlo a qualcuno e qui comunque lasciarlo nelle sai nei residence o comunque come le chiamate le pensioni per gli animali costa tantissimo costa anche in Italia ma qui negli Stati Uniti è veramente una cosa non si può sentire quanto costa e questo perché perché molto spesso capita che io vado in Italia adesso per esempio dobbiamo venire in Italia per un lavoro e dove lo lasci cioè già il fratello ha già tre cani capite bene che è un problema poi ripeto lui va spesso in missione magari non c'è nessuno anche lui è costretto a lasciare i cani da qualche parte insomma ovviamente non c'è bisogno che io vi dica che avere un animale è un impegno è un impegno io lo vedo tantissimo con il a parte io ho già un cagnolino se mi seguite lo sapete è Miele che è a Roma con mia mamma e mio papà nel mio amore il mio primo cane è stato io ho avuto due gatti prima di Miele e poverini sono morti tutti e due di vecchiaia e e poi ho avuto Miele ho avuto Miele e Miele è stato adottato l'abbiamo trovato in una busta di plastica poverino l'ha trovato mia cugina e poi insomma l'abbiamo trovato insieme lei era la mamma di mia cugina con mia madre al mio paese giù in Calabria purtroppo l'hanno trovato nei secchioni della spazzatura chiuso in una busta di plastica lui e la sorellina appena nati veramente è una cosa atroce non si può sentire sta cosa vabbè ma non non mi dilungo su sta cosa perché sennò comincio a fare fuoco e fiamme purtroppo c'è un grande problema grande problema nel mio paese giù in Calabria perché tante volte non solo il modo in cui abbiamo trovato il mio cane ma abbiamo avuto più e più volte paura che ci avvelenassero Miele perché purtroppo c'è una mentalità molto molto sbagliata alcune persone hanno ancora soprattutto le persone un po' più anziane c'è una mentalità veramente sbagliata e se ne vedono tantissimi animali abbandonati che vengono abbandonati purtroppo e ve lo posso ve lo dico perché io mia mamma è siciliana mio papà è origini calabresi e noi andiamo molto spesso in Calabria in Sicilia e abbiamo sempre assistito a delle situazioni veramente inumane ecco però vi ripeto non mi dilungo su sta cosa perché sennò mi arrabbio mi arrabbio e quindi noi abbiamo adottato Miele la sorellina è stata adottata pensate dai nostri vicini di casa giù in Calabria e si rivedono tutte le stati si rivedono Miele e Selly che sono completamente identici Miele è semplicemente un pochino più cicciottello e si amano si amano all'inizio Miele prima che Selly venisse sterilizzata era innamorato di Selly ecco diciamo così era innamorato di Selly invece adesso sono amici ogni volta che si vedono l'estate infatti mi manca un po' questa cosa perché io tutte le stati andavo in Calabria in Sicilia e quindi vedevo sempre Selly e andavo giù in Calabria al mio paese ed era sempre bellissimo vedere Miele che incontrava Selly e quindi un po' quelle cose mi mancano mi manca poi ovviamente Miele tantissimo quindi diciamo che io ho già il mio cuore già appartiene a Miele però ovviamente ne abbiamo l'abbiamo pensato ci abbiamo pensato tantissime volte e ripeto per adesso dobbiamo anche un pochino capire cosa succederà nella nostra vita non sappiamo se Dylan rimarrà nei militari c'è anche la possibilità che se Dylan dovesse rimanere dovesse appunto firmare nuovamente il contratto ci potrebbero mandare in qualsiasi posto cioè ci potrebbero mandare a dirvi anche in Giappone esempio stupidissimo anche perché Dylan se dovesse ripeto rimanere ritornerebbe in sea duty in sea duty vuol dire che lui dovrebbe tornare in missione e mi ritroverei sempre io da sola con l'animale e se voglio andare in Italia capite bene che è un problema quindi per adesso stiamo temporeggiando è semplicemente questo il motivo assolutamente ci abbiamo pensato tantissime volte io e Dylan siamo grandissimi amanti degli animali e ovviamente se dovesse succedere saranno degli animali adottati per favore ragazzi mi raccomando io ve lo dico sempre anche sui social ne parlo poi ovviamente ognuno è libero di fare quello che vuole però ci sono tantissimi animali che hanno bisogno di amore hanno bisogno di essere adottati vi prego non comprate se riuscite adottate perché veramente vi danno tanto amore lo stesso amore che vi può dare un cane di razza se riuscite per favore adottate non comprate mi raccomando non voglio fare la non voglio fare l'animalista tu compri no assolutamente ognuno è libero di fare quello che vuole però se riuscite è veramente un gesto un grande gesto d'amore ci sono tantissimi cagnolini gattini che hanno bisogno del vostro amore quindi mi raccomando ragazzi un po' di amore insomma vabbè non mi sto a dilungare su questa cosa comunque invece come trattano gli animali gli americani allora c'è sempre ovviamente questo grandissimo amore per gli animali assolutamente l'unica cosa che ho notato e che non mi piace moltissimo e ve lo dico ve lo prendo come esempio il fratello di mio fratello il fratello di mio marito che lui ha tre cani una cosa che non mi piace di alcuni americani ripeto non tutti ma alcuni quelli che insomma ho visto una cosa che fanno non portano i cani a passeggio il gatto non parlo di gatti perché i gatti comunque sono a meno che non è abituato il gatto ad andare in giro con la pettorina ma io non penso sono più animali appunto i gatti sono più a casa i cani hanno bisogno hanno bisogno di uscire interagire con altri cani la passeggiata è importantissima per sfogarsi cioè la passeggiata non è soltanto fare cacca e pipì la passeggiata è poter far sfogare il cane dopo che magari è stato a casa 6 ore 7 ore 8 ore che siete andati in ufficio adesso grazie a Dio i miei genitori sono in pensione quindi miele amore mio per la sua felicità stacca 24 soprattutto con mia madre che mia madre è il suo amore più grande lo sapete dicono che i cani ogni membro della famiglia lo vedono come hanno un posto nella classifica ecco il mio cane vede mia madre come la padrona come proprio l'amore della sua vita cioè il mio cane muore senza mia madre fatto sta che quella è un'altra problematica di quando loro devono venire qua in America a trovarmi purtroppo Miele soffre di depressione cioè lui sta malissimo quando mia mamma e mio papà non ci sono fatto sta che quando loro sono venuti a New York io ero una ragazza alla pari ci siamo incontrati a New York siamo stati 15 giorni tutti insieme e il mio cane era rimasto appunto con la fidanzata con l'ex fidanzata di mio fratello dentro casa nostra e per appunto non farlo sai il cambiamento eccetera eccetera il mio cane è stato malissimo non mangiava non dormiva non usciva da sotto il mobile purtroppo questo è un grande problema ci sono degli animali che sono molto attaccati ai padroni e questo è appunto un altro problema di quando appunto i miei genitori dovranno venirmi a trovare qui negli Stati Uniti stiamo cercando un po' di capire se magari se lo possono portare però si vedrà però ripeto vi dicevo la cosa che non mi piace è questa cosa di non portare i cani a passeggio cioè il fratello di mio marito ha per carità e questo è perché moltissimi americani hanno degli hanno grandissimi spazi hanno dei giardini immensi backyard immensi dietro le case il fratello di mio marito ha una casa enorme ha un giardino enorme ma questo non significa che il cane tu non lo puoi portare a passeggio il cane deve interagire con gli altri cani cioè i cani del fratello di mio marito non hanno mai visto altri cani a parte i due cani gli altri due cani che vivono con lui ma i cani del fratello di mio marito non sono mai portati non sono stati mai portati a passeggio non hanno mai interagito con altri cani e questa è una cosa che io vedo troppo spesso da parte è un comportamento che non mi piace che vedo molto spesso da parte degli americani perché vedono come ha io vedi ho il giardino grande quindi il cane non lo devo portare a passeggio basta e fa la cacca e la pipì assolutamente no assolutamente no il cane ha bisogno di essere portato a passeggio non solo per sfogarsi per annusare sentire odori nuovi che quello già per loro è un allenamento è un workout utilizzare il nasino e soprattutto interagire con altri cani cioè ragazzi cosa importantissima soprattutto noi che in Italia viviamo soprattutto negli appartamenti il cane non è che ha bisogno cioè il cane ha bisogno di uscire tre volte ha bisogno di fare una passeggiata cioè io Miele noi lo portiamo sempre al parco della Caffarella a Villa Lais a Villa Lazzaroni prima lo portavamo nelle aree cani poi dopo che c'è stato quell'incidente che Miele stava per morire che un cane l'ha zannato è stato atroce ragazzi quella è stata penso la cosa più traumatica della mia vita è stato azzannato e abbiamo curato la ferita dopo un giorno due giorni ha cominciato ad avere la febbre alta perché non ci siamo resi conto che la ferita si era infettata e quindi abbiamo denunciato la persona Miele stava per morire è veramente stato un trauma un trauma e quindi l'area cani l'abbiamo un po' accantonata però il mio cane fa delle passeggiate lunghissime il mio cane non viene tirato se odora se odora la pipì se odora la cacca quelle sono loro istinti istinti animali che non devono essere bloccati come la passeggiata come l'interagire con altri animali quindi questa è una cosa che assolutamente non mi piace degli Stati Uniti anche perché perché non portano a spasso il cane perché loro non camminano questa ormai è una cosa risaputissima degli americani qui in America noi viviamo a casa abbiamo in questo questo loop diciamo in questo nostro il vicinato è una strada privata noi abbiamo delle telecamere H24 e fa il giro sono delle stradine private prima di arrivare alla strada principale e vedi i proprietari che fanno fare la passeggiata al cane perché qui davanti proprio davanti a casa mia c'è un mini parchetto dove ci sono appunto dove possono fare i bisogni gli animali c'è scritto proprio che ne so dog park una cosa del genere ci sono anche le busse di plastica per la cacca e la pipì ma è minuscolo e sì io vedo molto spesso dalla finestra sto andando da soli questi cani camminano fanno la pipì a cacca e tornano a casa cioè 5 minuti e tornano a casa non si può vedere questa cosa assolutamente no quindi questo è il problema principale gli animali scusate gli americani non camminano e di conseguenza non lo portano non stanno lì se poi soprattutto hanno un giardino bello grande non stanno lì a pensare devo portare il cane nel parco anche perché devono prendere sempre la macchina e purtroppo questo va ad influire sul portare il cane a passeggio quindi questa è una cosa che non mi piace altra cosa che ho notato che assolutamente non mi piace è il fatto che loro hanno sempre una gabbia dentro casa e il cane dorme dentro la gabbia il cane dorme dentro la gabbia e la gabbia viene chiusa stessa antica cosa quando prendono dei cuccioli subito dall'inizio li mettono dentro le gabbie ragazzi questa è una cosa che io non capisco non concepisco quindi forse a questo ci colleghiamo al fatto che tu mi hai chiesto se vengono trattati come diciamo membri come un po' li umanizziamo forse ti dico che no a questo punto ti dico se ci penso a questa cosa non penso perché per carità poi ci sono tantissime persone che fanno dormire i cani io vedo che ne so su tiktok tantissime persone che fanno dormire i cani dentro a letto insomma come facciamo anche noi molti di noi e trattano i cani come i membri della famiglia ma però visto questa cosa della gabbia un pochino troppo spesso e se vivete nelle Stati Uniti o siete stati a casa di americani mi potete confermare questa cosa ne sono certa ed è una cosa che assolutamente non mi piace non concepisco non capisco fatto sta che avevo visto ultimamente mi è uscito un video su tiktok di una persona che stava cercando di fare il training al pappi al cagnolino appena preso e giustamente quella stava davanti alla gabbia tutta la notte perché il cagnolino piangeva tutta la notte e grazie a cavolo tu lo fai dormito e entrare la gabbia chiuso è un cagnolino appena nato che è stato anche probabilmente allontanato dalla mamma quello c'ha bisogno di dormire con te in camera con te almeno metti avvicino a letto insomma cose che io non concepisco quindi su questo ti posso dire che forse solo alcuni trattano i cani i gatti come noi però ci sono anche altri americani che li trattano allo stesso modo in cui li trattiamo noi spero di aver risposto alla tua domanda scusate se mi dilungo come al solito ultimo audio ultimo audio questo allora vi faccio una premessa ci ho pensato un pochino prima di voler farvi sentire questo audio e parlare di questa cosa perché è un argomento molto delicato molto delicato che però mi sono resa conto se ne parla veramente troppo poco se ne parla troppo poco e mi sono resa conto che dopo la mia esperienza tantissime donne mi hanno scritto e mi hanno ringraziata perché mi hanno detto prima di tutto grazie per averne parlato perché solo poche donne l'hanno vissuta e questa cosa e parlarne finalmente ho trovato qualcuno che ha riuscito a parlarne e finalmente mi sono sentita meno sola e soprattutto proprio parlarne in generale perché è un argomento che viene trattato molto poco per il semplice fatto che molte donne non riescono a parlarne è un argomento molto delicato è un argomento doloroso e ci sono tantissime donne che non riescono a parlarne altre invece che cosa sta succedendo ah ok altre invece che magari come me che sono un pochino più forti hanno un carattere un pochino più aperto e quindi riescono a parlarne più facilmente quindi ci ho pensato tantissimo se parlarvene oppure no e poi ho detto sai che ti dico mi ha aiutato prima di tutto ha aiutato me quando ci sono passata e ho visto video di altre donne su TikTok soprattutto americane e quindi e poi ho visto i commenti delle donne che mi hanno detto che le hanno aiutate e quindi ho deciso di parlarne chiedo scusa se magari ci sono delle donne che stanno ascoltando che è un argomento un po' doloroso che magari l'hanno passato nella loro vita perché purtroppo è qualcosa che succede molto spesso nonostante non se ne parli perché il non parlarne ti dice ah vedi è successo solo a me ma è una cosa che succede purtroppo molto molto spesso semplicemente alcune donne non si sentono di parlare non si sentono non vogliono parlarne perché è un argomento molto delicato comunque vi faccio sentire lei è Silvia ok ciao Ilaria mi chiamo Silvia ho 30 anni e come argomento per il tuo podcast vorrei proporre la perdita della gravidanza io l'anno scorso purtroppo l'ho vissuta e il senso di rabbia sconforto impotenza è stato veramente devastante anche perché ho perso la mia gravidanza a 7 settimane e 6 giorni quando ancora non lo sapeva quasi nessuno e questo non mi ha permesso di confrontarmi con altre donne e di sentirmi meno sola anche perché poi quando succede tutto sembra amplificato intorno a te tutte hanno gravidanze bellissime perfette bambini stupendi e a tutto sembra andare male solo a te io credo che altre mamme o altre donne che hanno sofferto questa situazione possano capire questo dolore io credo che tu con il podcast possa veramente aiutare queste donne che hanno vissuto come noi in questo tipo di situazione a sentirsi meno sole e niente ti ringrazio per l'opportunità di partecipare al podcast anche a noi che ti ascoltiamo grazie ciao Silvia questo appunto è l'argomento per quello vi dicevo se siete un pochino sensibili magari potete schippare l'ho messa come ultima domanda proprio per questo motivo e ripeto io la vedo così ci sono tante donne forti che hanno il coraggio di parlarne dopo che ovviamente sono arrivate ad un punto in cui diciamo è una cosa assolutamente non sto dicendo che è passata perché è una cosa che ti porti sempre dentro è un dolore che ti porti sempre dentro e ti porterai sempre però ci sono donne magari come è sempre una questione ovviamente di carattere come me che alcune giustamente non ne vogliono parlare e altre invece magari si sentono ne sentono il bisogno e si sentono anche meglio a parlarne ecco io faccio parte di questa categoria e sapere che posso aiutare altre donne anche soltanto parlandone mi aiuta mi ha aiutato anche quando il periodo in cui è successo e ve ne ho parlato mi ha aiutato tantissimo e quindi ho sentito questo audio e ho detto avere voluto comunque parlarvene a prescindere in uno degli episodi quindi è stato il momento insomma più giusto allora se mi seguite non so se appunto se mi seguite sapete che ne ho parlato sui social purtroppo a settembre dell'anno scorso sono rimasta incinta e alle 8 settimane quando sono andata a fare l'ecografia la prima ecografia abbiamo scoperto è stato una un evento molto drammatico della mia vita e sono stata anche seguita da una psicologa perché mi ha molto mi ha cambiata è stato una botta psicologica veramente veramente pesante il giorno sesto c'è immaginatevi la situazione tu vai felice che sei rimasta incinta e vai a fare l'ecografia e nell'arco di un'ora io non solo ho scoperto che non c'era nulla dentro di me quindi non c'era un feto non c'era assolutamente nulla ho scoperto di avere una gravidanza molare ho avuto una mola completa perché poi appunto hanno fatto tutte le analisi hanno scoperto che purtroppo avevo una mola completa è stato traumatico perché ripeto in un'ora mi hanno detto non c'è nulla dentro di te anzi hai una mola e se non viene operata il prima possibile questa mola può portare ad un tumore maligno ci sono purtroppo tantissime donne che hanno dovuto subire l'operazione l'operazione di raschiamento praticamente e nonostante ciò purtroppo sono rimaste delle cellule e hanno dovuto poi fare sedute di chemioterapia quindi insomma una situazione abbastanza pesante abbastanza pesante soprattutto perché io ero sola non c'era la mia famiglia con me le mie amiche con me non c'era nessuno è stato il periodo della mia vita molto ripeto drammatico e doloroso adesso ripeto mi ha aiutato anche un percorso dalla psicologa e l'ho detto anche a tantissime donne che mi hanno scritto che mi hanno ringraziata di averne parlato e che appunto le ho aiutate parlandone e appunto anche a loro ho consigliato guarda se so che purtroppo è qualcosa che ti rimane dentro se ti può aiutare vai dalla psicologa perché mi ha aiutato tantissimo vi leggo in poche parole cos'è una gravidanza molare o una gravidanza con mola così almeno appunto sappiamo ovviamente lo potete trovare su google è una gravidanza molto rara solo a pochissime donne può succedere è praticamente quando due spermatozoi vanno a fecondare lo stesso ovulo cosa vi dice le donne con una gravidanza molare sembrano incinte ma l'utero aumenta di volume molto più rapidamente rispetto ad una normale gravidanza la maggior parte delle donne lamenta nausea intensa e vomito sanguinamento vaginale in alcuni casi pressione sanguina molto alta vengono effettuati un'ecografia ad esami del sangue per misurare insomma la la gonadotropina scusate questa parola non riesco a leggerla con gonadotropina corionnica umana le gravidanze molari vengono trattate mediante dilatazione e raschiamento se il disturbo persiste si procede con la chemioterapia quindi praticamente vi dice una mola quindi si sviluppa una mola anziché un feto è una gravidanza molto rara la gravidanza molare si sviluppa con un feto vivo in questi casi di solito il feto muore e si verifica un aborto quindi e poi appunto vi spiega che potrebbe portare ad un tumore benigno o ad un tumore maligno e anche per questo che dopo l'operazione viene mandata la massa insomma quello che hanno preso dall'utero e viene analizzato per capire un attimo se c'è il rischio di un tumore benigno o maligno insomma è stato non c'è bisogno che ve lo dica è stato un periodo veramente pesante e brutto della mia vita perché ripeto da un momento all'altro hai la felicità sei incinta vai per fare la prima ecografia per finalmente vedere cos'è che ti porta quel crampetto quella nausea e poi veramente vieni a scoprire che non è nulla di tutto ciò anzi è qualcosa che sta crescendo dentro di te e può farti del male quindi è qualcosa che veramente non auguro nemmeno il mio peggior nemico ma in generale purtroppo io ovviamente ho avuto questa esperienza ma in generale gli aborti nelle gravidanze particolari che poi portano purtroppo ad aborti è qualcosa che purtroppo nella vita succede può succedere scusatemi è un po' e è sempre qualcosa che ripeto è qualcosa che vi portate sempre dentro vi porterete sempre quindi è normale la mia la mia reazione scusatemi ogni tanto capita è qualcosa che ripeto è un dolore che rimane sempre ovviamente è un dolore che piano piano riesce ad attenuare sia con il tempo e poi se poi hai la fortuna di avere il tuo bimbo arcobaleno che come dicono come appunto dicevamo io sono anche in un gruppo facebook di supporto per donne che hanno avuto la gravidanza molare alla fine del tunnel c'è sempre la luce e quindi diciamo che quel dolore piano piano cerchi di attenuarlo ripeto prima di tutto con il tempo e poi se riesci ad avere il tuo bimbo arcobaleno che poi quello ovviamente è quel momento in cui scopri che sei di nuovo incinta ovviamente c'è la paura eccetera eccetera ma allo stesso tempo la felicità che è immensa che capito hai la fortuna che finalmente sei riuscita anche tu l'aborto come ripeto l'aborto come la gravidanza molare o come qualsiasi tipo di gravidanza problematica se ne parla molto molto poco e a me ha aiutato tantissimo ripeto tantissime donne qui negli Stati Uniti perché comunque gli Stati Uniti sono più grandi quindi la percentuale di gravidanza molare nonostante sia molto rara era molto più alta dell'Italia fatto sta che tantissime ragazze poi quando io ho messo i video su TikTok i video sono andati virali mi hanno scritto e mi hanno detto sei la prima persona che ne parla finalmente ho trovato qualcuno che seguivo già da tempo e ha avuto la mia stessa esperienza veramente tu non sai quanto mi hai aiutata mi sono sentita meno sola io ci credo tanto a queste cose fatto sta che io anche per questo che molto spesso creo contenuti e parlo di determinati argomenti perché io ci credo tanto a questa cosa io credo tanto al sostegno prima di tutto al sostegno tra donne quando c'è perché siamo un po' in carenza di sostegno tra donne purtroppo sui social io ci credo tanto perché può aiutare ti aiuta psicologicamente è qualcosa che sembra stupido soprattutto per la situazione come la mia che io sono lontana dalla mia famiglia dal mio paese dai miei amici mi ha aiutato tantissimo ovviamente c'è stato anche il sostegno di mio marito Dylan che mi ha aiutato tanto mi è stato tanto vicino perché io sono stata molto male e quindi vi dico non sto dicendo che bisogna parlarne di più perché ovviamente ripeto è un dolore e tantissime donne non vogliono parlarne perché è un dolore e fa male parlarne fa male anche io nel momento anche io mentre ne parlavo un po' mi sono tornati in mente cose che magari sto cercando di accantonare però ripeto ci ho pensato tanto perché questa è stata la mia decisione rispondere a questa domanda ci ho pensato tanto e ho sentito che mi sentivo abbastanza pronta per parlarne e per rispondere a questa domanda è qualcosa che ripeto non tutte le donne riescono a parlare ma è qualcosa di molto più comune di quello che pensiamo perché ripeto tante non ne parlano perché è un grande dolore e non riescono a parlarne ma una volta nella vita almeno il 60-70% delle donne ha purtroppo dovuto subire un aborto mia mamma stessa le mie zie tutte prime di mio fratello mi hanno avuto degli aborti spontanei o degli aborti dovuti a qualche problematica purtroppo sono argomenti di cui se ne parla poco e ripeto non è colpa di nessuno ci sono donne che caratterialmente sono un pochino più forti e riescono a parlarne e tante donne che non ne vogliono parlare perché non parlandone le aiuta a accantonare quel dolore immenso perché l'aborto gravidanze particolari sono un dolore immenso un dolore che ripeto non scusatemi sono purtroppo dolori che vi portate dentro e perdere un figlio anche che non è ancora nato è un dolore che rimane sempre quindi è giusto parlarne è giusto parlarne se avete la capacità se avete un carattere un pochino più forte e magari anche voi create dei contenuti sui social parlarne aiuta parlarne prima di tutto può aiutare voi stesse e aiuta chi vi ascolta ti ripeto io ho ricevuto tantissimi messaggi ci siamo aiutate a vicenda tantissime donne che mi hanno scritto che hanno avuto una gravidanza molare che ha avuto la mola completa che ha avuto la mola parziale ci siamo aiutate a vicenda io poi di conseguenza ho dato loro i gruppi facebook che mi stavano aiutando insomma è una catena ripeto se i social vengono usati nella giusta maniera possono aiutarci possono possiamo aiutarci a vicenda ci deve essere questa cosa capisco che viviamo in un mondo malato viviamo in un mondo cattivo purtroppo soprattutto sui social però veramente se potete aiutare fatelo perché ripeto è qualcosa che vi può aiutare aiuta voi e aiuta chi vi ascolta e quindi spero di aver risposto alla tua domanda mi sono scordata a chi stavo rispondendo a Silvia e ti sono ovviamente Silvia ti sono vicina io ho visto che avevamo già parlato in chat con questa ragazza e sono vicina ovviamente a tutte le donne che hanno dovuto subire questo grande dolore nella vita ma arriverà arriverà l'arcobaleno e l'amore nelle nostre vite ragazzi io sono arrivata penso in questo nuovo episodio io penso che finalmente siete contenti perché mi scrivete sempre che volete che io parli tanto io penso che ho bisogno pure di bere un po' d'acqua perché ho parlato troppo come al solito e niente ragazzi io vi ringrazio grazie mille per aver ascoltato barra guardato il mio nuovo episodio podcast gli episodi escono come sempre alla vostra mezzanotte di mercoledì mercoledì mezzanotte che da me sono se vivete negli Stati Uniti nella East Coast sono le 6 di pomeriggio nella West Coast sono le 3 di pomeriggio e niente grazie per avermi ascoltato barra guardato e ci vediamo nei prossimi episodi di Keeping Up with Iaia Rondi ciao ciao